ciao ciao questa volta ti parlo della casa alla standa dal 7 febbraio c'è lo sconto del 10% su tutti gli articoli per la casa guarda i nuovi servizi per la cucina gli utensili per far più bella la casa l'arredamento bagno e tante altre cose alla standa c'è sempre quel che ti serve e ti conviene ciao ciao dal 7 febbraio su tutto il corredo per la casa 10% di sconto questa è una sfida standa